ciao sono gerardo paterna e dagli studios primo round di milano vi do una news che era già nell'aria torna a sinergia quest'anno quinta edizione venerdì 2 dicembre presso l'hotel enterprise di milano una location esotica ma comoda ampia e fantastica per ospitare un evento unico per gli agenti immobiliari condurrà questo evento debora rosciani giornalista speaker di radio 24 per la parte digitale avremo grandi ospiti rudy bandiera riccardo scandellari per il personal branding ma avremo anche parleremo di di lusso con davide bertilaccio che il ceo della del gruppo villa d'est parleremo di formazione di giovani di futuro con stefano paschina founder di ic s la scuola internazionale di milano ma avremo anche francesca zinstein gli scenari immobiliari tanti e tantissimi relatori che arricchiranno le informazioni ci daranno tanti utili strumenti per poter trasformare la nostra carriera immobiliare in un vero successo ci sarà ci saranno 25 workshop tanti relatori aziende che parteciperanno in modo attivo a questo a questo evento evento ibrido ve lo ricordo quindi avremo 250 partecipanti in presenza e la consueta piattaforma online che l'anno scorso ha permesso ben a 550 agenti immobiliari di collegarsi contemporaneamente da tutta italia partecipare è facile ve lo ricordo venerdì 2 dicembre potete iscrivermi seguendo il link che metteremo qui sotto nel primo commento vi aspetto